Il 4 maggio del 2023, alle ore 22.37, un fischio fa ritornare dopo 33 anni in Napoli campioni d'Italia, con emozioni e piante, grandi e piccini, con tanto edusiasmo e allegria. Al fischio finale, una tantissima emozione, io ragazzo di 16 anni, tifoso del Napoli, da piccolo, con tanta gioia e piante, per il terzo scudetto del Napoli. Ogni partita avete dimostrato il vostro impegno, ma noi vi ringraziamo per questo terzo scudetto, perché avete dimostrato che siamo per la terza volta campioni d'Italia. Grazie ai campioni, complimenti anche a Luciano Spalletti, per il suo impegno tecnico. Ringraziamo di vero cuore anche il presidente Aurelio di Lavoro. Il 4 maggio del 2023, alle ore 22.37, un fischio fa ritornare dopo 33 anni in Napoli campioni d'Italia, con emozioni e piante, grandi e piccini, con tanto edusiasmo e allegria. Al fischio finale, una tantissima emozione, io ragazzo di 16 anni, tifoso del Napoli, da piccolo, con tanta gioia e piante, per il terzo scudetto del Napoli. Ogni partita avete dimostrato il vostro impegno.